Ciao lettori di Ginger, adesso vi elenco tre cose che non sapete di me. Allora, la prima è che adoro il sushi, che vabbè ormai è una cosa comune, però in realtà sono pazzo del sushi, mangio sushi tre o quattro volte a settimana, sono... tanto saluto gli altri. La seconda cosa, dopo le scuole medie, io volevo fare liceo linguistico, perché comunque ho vissuto all'estero, eccetera, il mio padre mi ha obbligato a fare liceo scientifico, cosa che io odiavo, nel senso che in matematica ero negato, quindi mi sono ritrovato a fare liceo che non l'avevo scelto io, però insomma sono... sono riuscito a proseguire il percorso di studi a liceo scientifico, poi ho totalmente cambiato perché ho fatto legge, però sono soddisfatto di me e orgoglioso perché ho fatto liceo in cui la materia preponderante era una materia... non ce l'ha scritto, quindi scusate, professore di matematica, ma sono più bravo in altre materie. La numero tre invece, la mia serie preferita, è attualmente... c'è un po' una lotta perché è tra Stranger Things e La Casa di Carta, quindi insomma amo un fan, forse La Casa di Carta di più.